Ah, ma proprio qui in centro? Bella Tommasì, grande capitale. Andare a giocare una finale a Pechino, a rappresentare la Lazio con il simbolo del Colosseo, è stata una cosa bella. Poi vincerla ancora di più. Avremmo dovuto affrontare questa Supercoppa importante contro una squadra fortissima perché l'Inter di Molinio quell'anno era fortissima. Le immagini dell'Aquila che prende il serpente, lo stadio, il nido. Questo è il nido? Questo è il nido nostro, è casa nostra. Avevamo il fuoco dentro. Eravamo motivati, eravamo determinati, lottavamo su tutti i palloni. Tu devi sempre fare qualcosa in più, devi metterci qualcosa in più e noi l'abbiamo fatto. Si sentiva che dentro avevamo la possibilità di entrare nella storia. Alla fine siamo andati poi ai rigori, tutti insieme abbracciati, cercando di trasmettere al compagno che andava a tirare la forza e la capacità di riuscire a fare gol. Quello stadio è esploso, la curva è esplosa. Prendere un trofeo e alzarlo al cielo davanti ai propri tifosi è un momento indimenticabile. Bello. Il cuore di Roma, eh. Il cuore di Roma, il cuore di Roma, il cuore di Roma, il cuore di Roma.